Oggi parliamo di incenso, amato in particolar modo quello che noi più usiamo, la buswillia sacra, viene distillata a freddo, le tipologie sono 12 e nascono fra l'Africa e l'India. Viene usato in chiesa ma in ogni forma di meditazione, di trasporto mentale per rilassare mente e corpo, ci aiuta ad eliminare blocchi emotivi, ansia, insicurezze. Sul corpo lo si usa quando si hanno degli eczemi, dei rash cutanico, aiuta a allenire. Nella modalità più comune mettere delle gocce in una crema vettore, mettere delle gocce in un olio, massaggiandolo sul corpo, lavorando sullo stato connettivo e un antinfiammatorio previene la formazione di ciò che può essere qualcosa che vada ad infiammare in superficie per poi non farci lavorare bene. Ci aiuta a prevenire le rughe di espressione in fase di nascita. Lavorandoci prima troveremo sicuramente un epidermide liscia e compatta. Sul cuoio capelluto, soprattutto sullo stelo, lo usiamo come ricostruttore, per far sì che si abbia uno stelo forte e robusto. Lo useremo nella maniera più comune utilizzando uno shampoo, utilizzando una crema, inserendoci delle gocce di incenso. Grazie. Grazie.